benvenuti su scienzemotori.com sono Giacobone Mattia e oggi vi parlerò di calcio di un nuovo metodo per insegnare la tecnica calcistica parliamo di settore giovanile il nuovo metodo è quello di scomposizione biomeccanica del gesto per arrivare poi al gesto tecnico vero e proprio facciamo una premessa cos'è un gesto tecnico un gesto tecnico è un insieme di capacità coordinative quindi noi dobbiamo migliorare determinate capacità coordinative per migliorare la tecnica se pensiamo al bambino molto bravo a giocare a calcio solitamente il bambino che è bravissimo a fare qualsiasi tipo di sport è il bambino coordinato quindi se noi vogliamo migliorare il nostro gesto tecnico dobbiamo migliorare il nostro gesto coordinativo gesto coordinativo specifico facciamo un esempio il colpo di testa il colpo di testa è uno dei gesti tecnici nel calcio è anche un gesto coordinativo che possiamo scomporre a livello biomeccanico vuol dire che noi possiamo scomporre il colpo di testa nella fase di preparazione allo stacco nella fase di stacco e nella gestione delle braccia e del tronco e infine nella gestione della testa e nell'impatto palla quindi nel calcolo della traiettoria e nell'impatto palla se io riesco a gestire a estrapolare tutte queste parti a livello biomeccanico le alleno a livello coordinativo e le automatizzo nel gesto all'atleta in questo caso al ragazzo vuol dire faccio ripetere al ragazzo un gesto anche senza far capire a lui che sta preparando lo stacco del colpo di testa e quando lo faccio come faccio a portarlo in pratica penso che tutti noi ormai facciamo durante gli allenamenti dei lavori coordinativi skip facciamo lo skip alto lo skip basso la calciata dietro tutti i gesti coordinativi che il ragazzo va ad automatizzare se io volessi renderlo più specifico invece di fare un gesto coordinativo a specifico lo rendo un gesto coordinativo specifico per la parte tecnica quindi faccio la sequenza dei passi degli ultimi due passi da fare prima dello stacco di testa e lo faccio nella fase di preallenamento come lavoro coordinativo sostituisco i miei skip alti skip bassi con un lavoro che è propedeutico poi al mio colpo di testa lo faccio inserendolo in determinate sedute faccio una progressione senza dire col ragazzo stai lavorando sulla progressione del colpo di testa poi dopo qualche seduta inserisco un lavoro tecnico sul colpo di testa il ragazzo se ha automatizzato quel lavoro che io scomposto biomeccanicamente quel lavoro coordinativo quando andrà a fare il colpo di testa saprà fare l'ultimo passo saprà fare lo stacco saprà gestire il corpo e saprà gestire il calcolo delle traiettorie e l'impatto palla questo sarebbe l'ideale senza dire al ragazzo ti sto preparando per il colpo di testa noi dobbiamo avere delle conoscenze precedenti preparare il tutto e poi solo successivamente creare il gesto tecnico vero e proprio un insieme di piccoli esercizi che messi insieme creano il colpo di testa io 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 Grazie a tutti